benvenuti benvenuti in questo nuovo appuntamento di felicità e pace news quali sono le novità bene semplice novità sul lato mindfulness perché perché la mindfulness è bella tutta la teoria tutte le cose ma come si chiama si dice pratica della mindfulness quindi siccome si dice pratica c'è bisogno di cose pratiche quindi ora ci sarà l'ultimo appuntamento di mindfulness e successivamente cominceranno gli appuntamenti di esercizi di mindfulness da un altro libro che ho trovato in libreria secondo me è bellissimo perché proprio incarna l'essenza della mindfulness mindfulness in cinque minuti sì perché la mindfulness è molto semplicemente deve essere un comportamento di tutti i giorni e quindi deve essere una cosa che si può applicare in poco quindi esercizi semplici ogni giorno piccolo pezzettino di teoria ma veramente piccolo richiamino e poi esercizio pratico cosa puoi fare per sperimentare in maniera proprio pratica la mindfulness perché la mindfulness è consapevolezza è una cosa semplice è una cosa pratica quindi vi aspetto con il prossimo appuntamento di mindfulness in 5 minuti esercizi pratici per praticare praticare insieme daniele paci per felicità e pace om santi 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 buona giornata ciao 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 ciao